Comunque Adesso i drowner magari li eviteremo Quei goal semplicemente Erano un po' più pericolosi Ed erano molto vicini all'accesso Alla torre Quindi ho considerato fosse Nel migliore interesse per noi Eliminarli Che sono tutte queste donne Ah il rito che diceva Lo sciamano Ok E' ora di parlare con lo stramboide Ma è un peccato Che non ti sia portato presso la capra Iniziava a starmi simpatico Eccoci qui sciamano Dicci tutto Tornerò dopo A mezza Ah a mezzanotte Non avevo intuito che fosse importante L'orario Allora Vediamo un po' di capire esattamente Che fa tutta questa folla Si stanno semplicemente Materializzando Qui E qui c'eravamo scesi Se non erro Quando ancora non c'era nessuno Esatto Ok Niente di nuovo E allora Aspetteremo la mezzanotte Già Ho aspettato Aspetta che intendi Spettri? Ho brutta esperienza con gli spettri Ok Allora Qui sicuramente Ci serve Antispettri E vediamo un po' C'è qualche bomba Potrebbe esercire bombe di dimeritium Che Non so se abbiamo Si Le abbiamo Blocca le magie Le abilità magiche dei mostri Potrebbe essere utile Ma adesso non mi ricordo A cosa erano deboli Gli spettri Adesso andiamo a ricontrollarlo Qui Poi Le altre Qui c'erano persi qualcosa Ah C'erano dei libri Che dovevamo leggere Si Lo faremo Ma non adesso Direi proprio Di no Va bene Quindi poi potremo anche utilizzare Abbiamo Gatto No Qui tutto è abbastanza illuminato Migliore riflessi E tempi di reazione Dura 15 secondi Soltanto 30 secondi No No Questi aspetterei Vediamo Vai Iniziamo Vai Iniziamo Soltanto Li ha fatto estrarre la spada Non l'ho estratta io Non sono spettri Non sono spettri Maledizione Non ho capito niente Ok Strega d'acqua che mi Appaierà alle spalle adesso Ok Aia Ah Maledetta E che cacchio Morite Ok Ok E cerca di morire Oppure no Ok Sì Sì Spirite Sì 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 Ness Sì Abbiamo trovato il foglio! Spirito, parlate! Questa volta è vostra! Diciamo dei vostri sposti! Chi sei? Il lo sa! Devo portarlo fuori? No... Ho venuto per te, Matrasson Inizio, fuori forza! Vi faccio il foglio del foglio eterno! Abominamento! Stopta questo a volte! L'erranti! Dobbiamo aiutare! Silenzio! Non tolerare la necromancia! Aiuto! Fuori ora! Stai disrupendo il rituale! Questa è la magia nera! Questi foglio disturbano il morto! Non possiamo permetterlo! Non lo faranno! Non lo sapevo! Non lo sapevo sui costumi! Prendetele! E dispersele il rituale! Allora! Qui ci servirà di nuovo il veleno dell'impiccato! Non lo scopero! Non lo sapevo! Nessuno con l'arco! Ai 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 ai! Non darmi le spalle! Ok Figurarsi O puri e morirà If you want to continue, I'm ready Good folk, we must the eve complete, prepare yourselves Yee we summon, yee we call, enter souls, we'll judge ye all All is quiet, all is blue, what is in the darkest loon Something whispers, something peeps, someone near our fire creeps All is quiet, all is blue, what is in the darkest loon Eccoli, ora arrivano i brights Eccoli, ora arrivano i brights Aiaiaiaiaiai Ehi, guanti si è der E che cacchio Allora, via No, e che cacchio Bomba di Meridium E che cacchio Maledetti Dai, è sciamato E fermate E il rito sta interrotto Qualcuno della folla Ah, patricida vero Lui era il patricida giusto Pella fears not That Wraith called you a patricide He get it right? Aye If I'm gonna help you, I gotta know everything Why'd you kill your father? The Pella does not wish to speak of this You can't hope to manage this alone You're afraid, that's clear Wraith will hold sway over you Listen, I'll send him off I've got to But I need to know where he's buried Corpse probably hasn't turned to dust yet That's his bond to the world of the living Ambrose Lies in the swamp Fine, I'll find his body See what I can do Non una bella sepoltura nelle paludie, eh Ok Mi ha fatto molta esperienza E abbiamo anche un po' di cose da Prendere Bene Polvere di smeraldo E ametista Ok Esattamente cosa abbiamo preso A livello di equipaggiamenti Queste case non magiche Neanche mi ci devo troppo Pure questa è meglio della nostra Ma non ha grandi effetti Ed è il motivo per questi effetti Per cui sto ottenendo Bonus Colpo critico Propelli colpo critico Ha delle buone Buone potenzialità Non voglio metterci rune Perché in realtà appunto Come abbiamo visto Ha un danno veramente Irrisorio Ad ogni modo Stiamo Colpen Si Andiamo a vedere Questa palude Era qui sull'isola No Era dall'altra parte Del mondo Praticamente Va bene però È raggiungibile In modo abbastanza semplice In barca Potrebbe valer la pena Fare una deviazione Di percorso E andare in quella zona In fondo È tutta da scoprire E andremo sempre Con la nostra Fida a barchetta Andiamo Questa era stata Mezza distrutta Infatti È rimasta distrutta Sì Non ero stato molto Delicato Nell'arrivare qui Allora Vediamo di fare un giro Ok E andiamo Il più veloci Che possiamo Carino l'effetto Del bagnato Sulla Telecamera Immaginaria Se non erro Però non dobbiamo Andare qui Dovemo Chissà Circonnavigare Da quel lato E poi Ritornare a sinistra Almeno credo Dal poco che mi ricordo Della mappa Che ho visto Pochi secondi fa Ma ok C'è un'altra barca Nel mezzo del fiume E una casa Potrebbe essere interessante Approfondire anche quello Ma Non adesso Mostri Ci potrebbero attaccare Ok Ci siamo quasi Bene Direi di Rallentare Cerchiamo di non schiantarci Come il nostro solito Ok La cosa simpatica È che queste parche Anche senza essere ancorate Rimangono sul posto Molto comodo Che bestie abbiamo qua Immagino non morti Se Demone putrefatto E Abbiamo il nostro Unguento Non coi cazzotti Geralt Non coi cazzotti E che cacchio Ok Già un passo avanti L'abbiamo fatto Devo assolutamente Ok No 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 Non viene Anche l'altro esplode Sì Ottimo Ok Uno contro uno Che la musica del combattimento Non gli piaceva A sto demone Va bene È stata profetica Ma dobbiamo ancora cercare Indizi Cremarlo Ho un metodo Dobbiamo tornare Dallo sciamano Abbiamo qualcosa Che si è Attivato di qua Cosa abbiamo qua Possiamo rampicarci Sì E tu stai costruendo qui In mezzo a tutti questi Non morti Coraggioso Dici un po' Le slav Non un buon segno Alla prossima Nocturnal Gli affari Allora Livello bonus non saprei esattamente come Ah, è questo qua, ok Puntiamo a 300 per ora Ok, scendiamo soltanto di 20 a questo giro però Anzi, vediamo livello bonus 40 Un po' di corona in meno 35 La voglio tirare questa mercanteggiata No E andiamo a meno 30 Cioè, a totale di 30 Niente Porca miseria E va bene Allora facciamo 20, ho capito Non sono affatto bravo a negoziare Ah ma niente proprio Va bene Allora È un contratto che adesso ho detto di seguire ma fatemi prima vedere Livello suggerito 12 Non siamo troppo distanti dal livello suggerito Presto dovremo fare anche geni dei boschi Sì Ma ad ogni modo Vediamo sulla mappa cosa dice È molto vicino Beh, potremmo fare quello e poi tornare dallo sciamano Potrebbe essere un'idea Qui dovremmo del tutto esplorare queste zone Ancora Sì, lo so Lo so Tante cose da fare Tante cose da fare E mai abbastanza tempo per farle In ogni modo Vediamo di trovare Qualche segno di questo essere Questa è la nebbia Ecco cosa c'è Parecchi draune Ok Aia Attacco combinato Non so cosa sto dicendo ma Deve essere stato qualcosa di importante immagino Penso sia arrivato il momento Di meditare un secondo Prima di proseguire Oh Cosa ho detto? Ho tolto un'allucinazione E ci stanno dei morti Va bene Come stavo dicendo Editiamo Ok Quindi se non avessimo avuto modo di Togliere le allucinazioni Non avremmo potuto fare nulla Bene Ci sono parecchi indizi Il pasto di più bestia E lì ci sta un Vabbè immagino siano altre tracce Motore metallico Interessante Ok Viene chiaramente in questa direzione Lì abbiamo altre Cadaveri Ma prima vediamo qua Polvere di spettro Ok Non avevamo tempo Per riuscire Non avevano tempo Il monstro Deve essere sconciato L'ho sorprezzato Foglet Erano quelli che diventavano invisibili I foglet Erano Necrofagi Ignis Fatus Venne fuori che il mostro Che infestava le torbie del Velen Era un vecchio foglet I foglet sono creature Molto longeve E possono arrivare facilmente A 200 anni Diventano sempre più forti Con il trascorso del tempo Impossibile parare i colpi Di foglet più anziani E inoltre queste creature Sono così veloci Che neppure il segno Irden riesce a rallentarle Per di più Sanno mimetizzarsi nella nebbia Salvo per riapparire Nel sferare un colpo alle spalle Contro di loro Ebbene indossare una pesante armatura O fare buon uso Del segno Quen Chiaro Quindi Intanto direi Inizierà Organizzarci contro i necrofagi E Forse Prenderei quest'acqua Sì Meglio non essere già troppo feriti Prima di incontrarlo Ecco l'illusione Un'illusione La cosa che mi chiedo è La Bomba al di meridium Avrà effetto Sulle loro capacità magiche? Non era detta come una Debolezza Ma Eccolo Ma quello è un foglet Non è il foglet Che stiamo cercando Mi ha fatto malissimo Cioè Mi ha fatto malissimo Veramente Sono stati potenziati quindi Ok Allora Kit di riparazione armi Ok Possiamo usarne Un altro po' Stahl Adesso Cinquantasei Ottanta Novantacinque Va bene Aspettiamo un attimo Che ci torni Un poco di vitalità Sono stato molto Sconsiderato E sono stato punito Spada di Dorian Dove sta Spada Centocinque D'acciaio Inizia a essere Molto Più alto Ed è pure Mezza rotta E Signori Penso sia arrivato il momento Davvero di fare questo Cambio Arma Sebbene sia Molto Meno bella Già Tardo tracciante Beh Piuttosto Usai Dardi Normali Ah Ne amo ancora Dardi Precisione Allora Scusami Usa questi Ok Altro che ci può essere utile Adesso Non Credo Non Credo Va bene Spada Argento Dell'urso Superiore Un'altra cosa Che non possiamo fare Perché noi Le cose base Non abbiamo ancora trovato E non Ci è arrivata Nessuna mappa Che ci indichi Le zone da cercare Per l'orso Decotto Di Acri Grifone Che roba è Sì L'ho capito Questo Già È la 72esima Volta Che ce lo dici Archicrifone Se c'è Vigore disponibile Gli attacchi potenti Lo consumano interamente Riducono la vita Del nemico Colpito del 10% In aggiunta Al danno normale Cioè Toglie il vigore E fa un danno Della Turbo Maron Ok Va bene Andiamo Alla prossima Cioè scusami Mi ha distrutto Mi ha distrutto Ok, non ho tempo per pensare alle bombe Assolutamente non ho tempo per pensare alle bombe Via, 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 via Ah, porca miseria Ui Non ho assolutamente il vigore E va bene, dai Su esagerato Ok, va bene Ok, va bene Oh cacchio Via, 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 Geralt Calmo Devi sparire da qua Maledetto Maledetto ci sei quasi Ti vedo nella nebbia Sì Maledetto Carabella Prendiamoci il trofeo Bene Possiamo andare anche a riscuotere la ricompensa Ma prima Analizziamo questo posto Di lì c'è un'uscita Dove siamo arrivati noi Davvero nient'altro qui? Parrebbe di no Va bene Va bene Non è stato affatto un combattimento semplice Vediamo quest'arma Arma d'acciaio Meno 5 danni Cioè È molto meglio di quella che avevamo prima Ma non di questa Lì avevo richiesto 5 Questa lì avevo richiesto 9 È palese che sia meglio Per quanto riguarda l'output di danni Ok Altra roba qua Ma poi avevamo preso un Un trofeo Che ce l'ha messo direttamente qua 5% oro aggiuntivo No Tutti questi cadaveri hanno niente? Pane No Un'uscita alternativa Bene Vediamo cosa ha da dirci L'uomo Oltre a darci i soldi Penso che non farà assolutamente nulla Comunque Spero non escano altri Drawner adesso da qua Sì Sono un po' Stanco Di combattere Almeno per oggi Meno? Meno? Va bene Va bene E una settimana sarà Caro mio E nel frattempo Andiamo a vedere Cosa ci dice lo sciamano Sono curioso Soprattutto vorrei rivedere la capra È già la seconda volta che mi viene in mente la capra Penso di avere dei problemi seri Ed o no? Bele rivedere la capra E' già la nit denying la capra E' già la capra è la capra E' già la capra l'euro